Buongiorno a tutti Allora cominciamo dal santo del giorno, vediamolo subito, oggi è San Serafino da Monte Granaro, religioso, il sole è sorto alle 7 e un quarto e tramonterà alle 18 e 35 minuti. Dopo il maltempo, ecco questa bella giornata, sembra un tramonto, in realtà è un'alba, l'alba su Fano fotografata dalla nostra webcam che potrete vedere sempre in ogni momento andando sul sito di occhiolanotizia.it accedendo poi alla sezione relativa all'osservatorio meteorologico di Fano TV. Può essere comodo anche per quelli che si devono spostare, devono venire in città oppure semplicemente curiosando, per curiosare come è successo. Insomma ieri ero fuori regione e volevo sapere come era il tempo e sono andato a vedere appunto che tempo faceva e ho visto che insomma ieri non era un gran che, soprattutto ieri mattina. La temperatura a 9 gradi, 9 gradi insomma freschino, però ancora insomma si sta abbastanza bene, soprattutto nel corso della giornata, durante le ore centrali della giornata. Oggi che cosa prevede la protezione civile delle marche? Vediamo subito le previsioni con l'aiuto anche della grafica. Avremo cielo sereno poco nuvoloso con aumento delle nuvole stratificate medio-alte nel pomeriggio, non ci saranno precipitazioni di sorta, per cui avremo comunque un cielo sì con delle nuvole ma senza pioggia. Minime in diminuzione le temperature, i venti di brezza leggera dai quadranti orientali, il mare sarà poco mosso. Per domani, domani martedì 13 di ottobre, ecco che il tempo peggiora di nuovo. Avremo un cielo che da nuvoloso diventerà sempre più nuvoloso con precipitazioni nel pomeriggio, deboli piovaschi più probabili nelle zone dell'entroterra, occasionalmente invece altrove. Le temperature sono in lieve aumento, i venti di brezza leggera o tesa da sud-occidente nelle zone interne e sud-orientali invece moderati con raffiche fino a vento fresco lungo la costa. Il mare sarà mosso. Mercoledì ecco qua di nuovo un peggioramento ulteriore del tempo, avremo piovaschi sparsi più insistenti nelle zone dell'entroterra, ma fenomeni che si intensificheranno invece dalla tarda mattinata di mercoledì, quando assumeranno carattere di rovescio o di temporale. Quindi attenzione perché mercoledì 14 arriva questo maltempo che porterà pioggia. Piogge temporali, temperature in aumento in particolare nei valori minimi, il mare sarà poco mosso. Una circolazione ciclonica, eccone un'altra, alimentata da impulsi di aria fredda in quota, favorirà ancora fenomeni di instabilità alternati a temporanei miglioramenti per il resto della settimana. Allora abbiamo due notizie, una su Fano e una su Pesaro. A Fano ci sono stati degli scontri ieri dopo la partita tra l'Alma Juventus Fano e la San Benedettese, scontri che hanno lasciato feriti sul campo, lo vedremo tra un attimo. Poi a Pesaro invece l'SMS di Matteo Renzi al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che gli annuncia lo sblocco di 5 milioni di euro. Quindi buone notizie invece per Pesaro. Andiamo subito e cominciamo dal resto del Carlino con gli scontri. Dicevo Fano Samba, scontri alla fine, commissario ferito da un pugno, il commissario Stefano Seretti colpito che poi è andato in ospedale. C'erano 200 tifosi ospiti senza biglietto. Un match caldo che tra l'altro ieri è finito 4-1 per la San Benedettese e appunto un cazzotto in faccia scrive per il commissario di Fano, Stefano Seretti, il quale poi è andato in ospedale a farsi medicare. La proniosi è di qualche giorno. Qui c'è il racconto di Roberto Damiani appunto, intanto la fotografia che mostra via Borgo Metauro gremita di tifosi, anche se a guardarli dal volto avevano senz'altro niente a che vedere con gente arrabbiata o pronta a fare rischi. Soprattutto la gente sorridente, tranquilla, i tifosi del Fano. Poi sempre sul giornale, sul resto del carino appunto dicevamo dell'SMS di Matteo Renzi, del Premier. Ricci di Corsa Palazzo Chigi, subito disponibili 5 milioni. Un SMS l'altra sera dal Premier Renzi. Come ti avevo promesso, scrive il Premier al Sindaco di Pesaro, e come ti avevo promesso, eccoti 5 milioni, insomma, non sono male. Oggi la visita a Roma, il Presidente del Consiglio ha tributato a Pesaro il ruolo di comune pilota. Sempre sul giornale bolognese, invece, ci spostiamo un po' verso l'entroterra, andiamo a Tavuglia, perché c'è il cartello, che è già un'opera d'arte, trasferito dalla strada dentro il comune. Contiene le firme, le dediche, i pensieri d'amore, naturalmente che man mano che la gente arrivava lì a Tavuglia, nel paese ovviamente di Valentino Rossi, campione, che tra l'altro si sta avvicinando al suo decimo mondiale, dicevo, man mano che arrivava la gente, faceva questa firma, voleva lasciare un segno del suo passaggio, e quindi è diventato questo cartello un'opera d'arte. È stato trasferito, l'hanno portato via dalla strada, l'hanno portato in comune, adesso l'hanno sostituito e probabilmente farà più o meno la stessa fine, e quindi diventerà un'altra opera d'arte con queste scritte, queste dediche e quant'altro. Il cartello toponomastico, scrive il giornale, potrebbe dare il via ad un museo valentignano. Il proposito è quello di completarne uno all'anno, da offrire alla curiosità dei turisti. Allora, adesso invece la pagina dello sport sul resto del cardino, per parlare invece di quello che è stato appunto l'incontro perso 4 a 1 dal Fano in casa, 4 a 1 è questo risultato, poker, samba, almashock, la svolta dopo 4 minuti, granata sotto e in 10 uomini. Reazione, pareggio, poi la forza dei rosso-blu. Marconi ferma Pezzotti, lanciato e si becca il rosso diretto, sulla conseguente punizione Barone infila magicamente. Sotto Alessandrini, l'allenatore del Fano, che dice dispiace perdere così, Beoni, vittoria che ci deve rafforzare. Il Granata sottolinea come giocare quasi 90 minuti in inferiorità numerica alla lunga abbia comunque pesato sul risultato finale. Mentre il tecnico rosso-blu parla di grande reazione dopo una settimana piuttosto difficile. Vi ricordo anche che tutte le azioni, tutta la partita, il telecronaca, ve la mostreremo questa sera dopo il telegiornale Occhio alla Notizia, come sempre intorno alle 20.50. Adesso invece apriamo il Corriere Adriatico. Allora, la pagina di Pesaro. La cronaca esce di strada per l'asfalto bagnato. Un'automobilista è grave. Uno scontro che è avvenuto a Frontone. A Frontone, soccorso dall'eliambulanza, trasportato all'ospedale regionale per una serie di traumi. Non è in pericolo di vita. A Cagallo, invece, scontro fra due moto ed una vettura. Tre feriti, soccorsi dal 118 e condotti al San Salvatore di Pesaro. Fondi europei per patrimonio e ambiente. Il Comune elabora un progetto innovativo per Fiorenzuola. Partnership con Riccione per le aste fluviali. L'ufficio sviluppo, voluto da Delle Noci, è molto attivo. Si punta alle stesse risorse, adesso per le scogliere. A Peglio, i profughi si prendono cura del Paese. Così si sperimenta una vera integrazione. Da oggi 22 richiedenti asilo al lavoro a Peglio. Altri esempi a Pesaro. Li vedete in questa fotografia. Questi ragazzi tutti di colore, con questa tuta arancione. mentre seduto a destra c'è il Presidente della provincia Tagliolini. Pesaro, Confindustria, Papalini diventa Vicepresidente. È un cinquantenne fanese, titolare di Pulirapida. Mauro Papalini è il nuovo Vicepresidente di Confindustria Pesorubino per il biennio 2015-2017. È stato nominato in occasione dell'Assemblea riunita in forma privata a Palazzo Ciacchi. e succede a Corina Sperandini. Adesso invece l'altra pagina di Pesaro e provincia del Corriere. Impegni mancati. Ceriscioli chiarisca. Ordine del giorno in consiglio a Fossombrone di rifondazione sul depotenziamento dell'ospedale. e sempre da Fossombrone confermate le risorse della rete scolastica. Al centro pagina invece da Sant'Angelo in Vado il Tartufo. Siamo nel periodo delle feste, delle fiere nazionali del Tartufo. Qui abbiamo insomma, abbiamo Pergola, abbiamo Sant'Angelo in Vado, abbiamo Acqualagna naturalmente, poi c'è Abecchio. Insomma il Tartufo brand per l'economia, il Ministro Galletti, disponibile alla promozione. Ceriscioli, eccellenza, dice, della Regione. Il Sindaco Luzzi serve una doc e una valorizzazione comune del territorio. E allora ancora, questa volta dalla pagina di Fano, del Corriere tirano le manifatture e i servizi alle imprese. Lievissimo, lievissimo, ma importante che ci sia, incremento delle assunzioni a Fano. In provincia il dato del primo semestrale sale al 3,2%. Positiva la statistica maschile, ma cala quella delle donne. Inflessione, ristorazione e commercio. Anche qui in evidenza la tensione di Tafferugli dopo la partita di ieri allo Stadio Mancini. Strada chiusa per evitare gli scontri. Passaggio in via Metauro, mentre il centro vietato ai tifosi locali. Tafferugli all'uscita dello Stadio Mancini, dove il Fano ha subito una cocenta sconfitta per 4-1 nel derby contro la San Benedettese. Le problematiche dell'ordine pubblico sono state risolte in meno di una mezz'ora. La strada è stata liberata, così il pubblico è potuto tornare a casa o andare a passeggio in centro, scrive il giornale. Poi l'invito a organizzare il Festival del Dialetto è una proposta del poeta Stefano Sorcinelli. In alto, consiglieri di 5 Stelle, partecipate, si viola la legge, e il Movimento scrive ai colleghi dell'Assemblea sul rischio di un danno erariale per le società non dismesse. Sulla pagina di Pesaro, invece, del messaggero, anche qui in evidenza, invece, il contatto che c'è stato tra il Premier Renzi con il sindaco di Pesaro Ricci. Pesaro può spendere, può spendere 5 milioni di euro. È un capoluogo virtuoso per il Premier, quindi si sblocca parte dell'avanzo d'amministrazione. Il Presidente del Consiglio invia un sms al sindaco Ricci. Come ti avevo promesso, appunto, la promessa in questione riguarda la possibilità per i comuni virtuosi di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione, una richiesta che era stata avanzata dal sindaco al Premier nel corso della sua visita al Teatro Rossini l'estate scorsa, e che ora sembra, appunto, diventare realtà. Per Pesaro significherebbe la possibilità di investire subito 5 milioni nel 2016 dei 39 presenti in cassa. Poi, disordini dopo fanno samba, la polizia carica gli ultra, la squadra granata cade 1 a 4 fuori dallo stadio, esplode la rabbia. I numerosi tifosi di San Benedetto, circa 600 e molti giunti con mezzi propri, quindi più difficili da controllare all'esterno dello stadio, sono stati fatti uscire per primi. Poi, quando si sono allontanati, è toccato i fanesi. Ma, a quanto pare, parte dei sanbenedettesi sono tornati indietro, o hanno atteso i tifosi rivali in qualche punto della città, e poi è successo quello che è successo. Ecco, poi dopo, se si fanno stare a casa i tifosi, come, no, non bisogna lamentarsi, insomma, la prossima volta probabilmente verrà vietata la trasferta ai tifosi e quindi ognuno starà a casa sua. Per quanto riguarda il basket, invece a Pesaro, atroce beffa finale con Pistoia, qui è finita un po' così, Vuel e il veleno è nella coda, sconfitta atroce per la Vuel che contro Pistoia guida per 39 minuti e poi getta le ortiche almeno un paio di occasioni per la stoccata vincente. Finito veramente questo è di un punto, se non ricordo male. Poi, breve tregua nel maltempo, ma poi, come abbiamo visto, mercoledì torna la pioggia. L'intesa non si trova, ristoranti in spiaggia, senza limiti d'orario, nessuna possibilità di mediare tra le richieste dei bagnini e dei commercianti. Alla fine ha deciso l'amministrazione. Anche bagni pubblici nel nuovo porto, che li chiede Siamo Pesaro al comune. Poi, Papalini, più che turista, credo a una provincia manifatturiera, il neopresidente di Confindustria è fiducioso e dice che il dato della produzione ha comunque il segno più. Poi anche qua vedete nella fotografia l'articolo che riguarda i migranti, volontari per piccoli lavori in attesa di ulteriori arrivi in provincia. Poi giù, con l'auto nella scarpata è grave, è successo a Serra Sant'Abbondio, da Fano invece tornano i contributi per i figli riconosciuti da un solo genitore. Il comune ha deciso autonomamente di mantenere l'aiuto in attesa che la regione faccia chiarezza. Mi pare di avervi letto tutte le pagine, quelle che si trovano tra quelle di sport, perché lui dice tanto sport nei quotidiani locali. Allora ci fermiamo qui, la rassegna torna domani mattina come sempre in diretta alle 7 e mezzo, poi tutte le repliche fino alle 1 e mezza di oggi e stasera invece alle 20 e 30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.